Questo è il buco più prezioso del mondo. Sì, anch'io avrei tante ma tante battute da fare su buchi preziosi e importanti con allusioni un po' strane però andiamo avanti con la storia. Si trova nella Siberia orientale ed è la miniera di diamanti di Mirni. Esatto, miniera di diamanti, stracolma in teoria di diamanti. È il secondo foro più grande che ci sia sulla terra e da qui si estraevano anni e anni fa tonnellate di diamanti. È profonda 525 metri e larga 1,25 chilometri. Pensate che è così grande che gli elicotteri, gli aerei, tutto ciò che è volante non può passarci sopra altrimenti la pressione rischia di risucchiare tutto all'interno e anche in questo caso avrei tante battute su buchi e risucchi però andiamo avanti. In realtà non si sa in questo caso se veramente gli elicotteri vengano risucchiati perché non c'è stato alcun incidente di questo tipo. Comunque sia la miniera è stata costruita artificialmente dall'essere umano, non è una cosa naturale e ci è voluto davvero molto tempo e molta fatica perché in quel posto, specialmente negli anni 50 quando la zona è stata trovata, specialmente in quel posto la temperatura arrivava anche a meno 40 gradi e in estate tutto ciò che era ghiacciato diventava letteralmente fango. Venivano estratti 10 milioni di carati all'anno e il 20% di questi diamanti era di buona qualità ed era una cosa abbastanza strana appunto. Per questo motivo la De Beers che deteneva il monopolio sui diamanti decise di verificare meglio perché erano stati costretti in quel periodo a comprare moltissimi diamanti dalla Russia perché appunto per tenere il monopolio dovevano per forza comprare più diamanti possibili dalla Russia per tenere anche un prezzo deciso da loro. Una così grande produzione era strana, cioè come facevano ad avere bene il 20% di diamanti utilizzabili, vendibili? Per questo motivo la De Beers ha chiesto tantissime volte di poter fare dei controlli. Il controllo più lungo però che sono riusciti a fare è durato soltanto 20 minuti. La Russia sapeva, voleva nascondere qualcosa. Miniera quindi è stata aperta nel 1957 e chiusa poi nel 2004. Nel 1990 dopo la chiusura, dopo la caduta dell'Unione Sovietica alcune aziende locali hanno preso il controllo di questa miniera ma nel 2004 tutto si è concluso. In realtà però un'altra azienda ha continuato a scavare dal 2004 in poi. La Alrosa che non poteva più operare sopra, poteva soltanto operare sotto, quindi sotto terra, non si poteva più utilizzare la parte visibile. Loro continuarono a operare fino al 2017, quando all'improvviso ci fu un allagamento che uccise due o tre persone, non ricordo bene, mi sembra due. Così da allora anche la Alrosa fu costretta a chiudere. A quanto pare ci sono piani per riaprire la miniera molto più avanti perché per rimettere tutto a posto, tutti i danni che ha causato l'allagamento, ci vogliono a quanto pare un miliardo e mezzo di dollari. Ma il mistero rimane. Come facevano tanto tempo fa, negli anni 50-60, a estrarre così tanti diamanti, così tanti poi che si potevano anche rivendere? Chi è che se ne occupava? Infatti ci sono molte teorie del complotto su questo, ma sinceramente fermiamo qua il video per adesso perché le teorie del complotto vanno prese con le pinze e vanno controllate e verificate come si deve. Alcune sì, possono essere vere, ma tantissime sono fake.